Le futur simple «Demain, je prendrai mon vélo et je viendrai te voir. La semaine prochaine, il écrirà un exposé e lo presenterà alla classe. Futuro semplice Questo tempo dell'indicativo serve principalmente per descrivere un'intenzione futura o per esprimere ipotesi su azioni del presente e del futuro. All'infinito del verbo si aggiungono le desinenze «è», «ha», «ha», «on», «é», «on». «Etudier», «je tu dirai». «Finir», «tu finirà». «Sortir», «il sortira». I verbi in «er» che subiscono modifiche ortografiche al presente mantengono le stesse modifiche al futuro. Quindi, i verbi in «ele» e «te» raddoppiano la «l» o la «t». «Nous appelleron», «vous jetteré». I verbi in «yé» prendono una «i» al posto della «y». «Elle nettoiera», «vous tutoaré». I verbi in «er» che prendono un accento grave al presente lo mantengono anche al futuro. «J'achète», «j'achèteré». «Elle esper», «elle esperera». I verbi in «re» perdono la «e» finale e poi si aggiunge la desinenza del futuro. «Boire», «nous boirons un chocolat». «Dir», «vous dire la verità». «Construire», «ils construiront des palais». Eccezioni. Alcuni verbi hanno un radicale irregolare. Per esempio, «être» diventa «je serai», «nous serons». «Avoir» diventa «j'aurai», «nous serons». «Venir» diventa «je viendrai», «nous viendrons». Ricorda, per esprimere il futuro esistono anche «il futuro prossimo», «all'è» più infinito «plus tard, il va prendre un vin». La forma verbale «être» sur le point «de» più infinito «elle» sur le point de «s'endormir». «Il futuro anteriore» è composto da «être» o «avoir» al futuro più il participio passato del verbo. «Quand tu aurai fini tes devoirs, tu pourras sortir». «Nous partirons dès qu'il sera arrivé». Questo tempo indica un fatto compiuto e anteriore rispetto a un altro fatto futuro. «Neo, quelle è il futuro moderno!» «L' animaleso». «Itranier